Abbiamo anche deliberato di rinviare il referendum. Il referendum costituzionale era fissato a fine mese, siamo ormai in prossimità ed bisognava fare chiarezza sul punto. Abbiamo valutato l'opportunità di rinviarlo, non c'è ancora una nuova data, quindi al momento quello si tratta di un rinvio senza data, sine die come si dice tecnicamente.